La compagnia si chiama Piccolino, in negozi Pinocchio, un tocco di lingua e cultura italiana in un business molto fiorente in Moldova, i Giocattoli. Una società relativamente giovane che commercia articoli per bambini e che si è trasformata in un business anticrisi. Il titolare, Nur Genadi, ci spiega che l'idea è venuta a sua moglie, che ha sempre voluto impegnarsi in attività legate ai prodotti in legno. Un'idea molto semplice, ma sviluppata nel tempo e articolata su un territorio particolarmente adatto. Ma oltre al richiamo culturale del nome Piccolino, si avvalsa anche del know-how e del supporto di una società dal cuore italiano. Microcapital, brand importante nel microcredito a livello internazionale, come spiega lo stesso Nur Genadi. Microcapital è una società che ci ha fornito pieno supporto finanziario al momento giusto. Come società in via di sviluppo, Piccolino aveva bisogno di assistenza finanziaria per uno sviluppo più intenso nel commercio al dettaglio e l'apertura di nuovi punti vendita. La società Microcapital è una società che fornisce servizi finanziari flessibili in breve tempo se esiste un piano aziendale corretto e motivato. Il giro di business per Piccolino è così cresciuto come pure il numero di dipendenti. Oggi sono 70. Negli ultimi 5-6 anni Piccolino è passata da 1 a 20 store, situati in diverse regioni della Repubblica. Tutti hanno lo stesso format e un pubblico di destinazione, nonché rapporti con partner locali, ma anche esteri in Romania, Polonia, Turchia, Cina e Spagna.